Sì, dai! Porca troia! Ben arrivati! Voi dovete essere i signori dei Verosa. Fa schifo. Vi stavo aspettando. Non si vede... Eh, buonanotte. Io? Io sono Fernando Pappenburg, il custode di Villa Mandragora. Beh, strano, nessuno mi ha detto nulla, nemmeno il notaio. Non c'è nessuno che sa di me. Ha fatto la cazzata. Va benissimo, va benissimo, va benissimo. Va benissimo. Va bene, ma facciamo girare. Va bene, ma facciamo girare. Va bene, ma facciamo girare. Ha ha ha! Grazie a tutti